... Signora, patente di guida, libretto di circolazione tagliando assicurativo? Certamente, agente. Ho una Sarah Phillips che andava a 78 km orari in un tratto con limite 65. DL22322567. Ricevuto. Signora, lo sai che stava andando a 78 km orari in un tratto da 65? Sì. Non ha precedenti infrazioni. La signora può andare. Può andare? Stava andando a 78 su un tratto da 65. Qui mi dicono che può avere un 20% in più scegliendo EMC. Cosa? Puoi ottenere un 20% in più. Ci sto passando a EMC. Garantito. Ottieni il tuo 20% extra oggi. Può andare, signora. EMC, eh? Sì, sono formidabili.